E buongiorno amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Visto che come vi ho anticipato lunedì scorso, anzi martedì scorso, in queste settimane salteremo le live, vi ho anche promesso che di tanto in tanto faremo qualche flash update all'occorrenza laddove ci sia qualcosa di cui vale la pena parlare. Stamattina ci siamo svegliati con un bitcoin che è inciampato e sta attaccando un livello chiave, quindi ritengo fondamentale aggiornarci al volo sulla situazione e sui possibili esiti che potrebbe avere in base principalmente a come andrà questo attacco, ve lo anticipo. Comunque andremo a vedere tutto ciò che c'è da sapere proprio per capire gli scenari sia su un time frame di breve come il giornaliero, sia sul settimanale che è quello sempre che conta di più. Inoltre ci sono un paio di notizie degne di essere commentate, quindi mettiamo tutto insieme in pentola ed eccoci col nostro flash update di oggi. Come sempre se sei qui, se sei sul pezzo, lascia un bel like per dire io c'ero e anche come segno di apprezzamento, ovviamente se apprezzi, di questo flash update. Se non sei ancora iscritto e ci tieni a essere sempre sul pezzo sul mondo cripto con nuovi contenuti quasi ogni giorno, rimedia subito e iscriviti al canale. Se infine ci tieni a essere aggiornato in tempo reale su price action, analisi, notizie e dati, il modo migliore che hai è iscriverti al nostro canale telegram gratuito dove discutiamo appunto quotidianamente con l'aiuto di tutto il nostro team tutte le cose calde e importanti che muovono il mercato cripto. Voglio partire proprio con una cosa presa dal nostro telegram che abbiamo condiviso ieri, che è veramente assurda, mi lascia sempre basito, anzi andiamo a vedere anche i dati aggiornati. L'interesse su bitcoin continua a scendere. È una tendenza che sto osservando ormai settimana dopo settimana e mese dopo mese con molto interesse, ma guardate che roba. Siamo arrivati veramente a livelli praticamente pari al 2022, a fine 2022, cioè il periodo proprio di bear market assoluto. Niente, ve lo lascio lì. Commentate voi anzi questa cosa. Secondo voi che cosa significa? Come mai questo callo di interesse? E in che fase del ciclo ci troviamo, osservando proprio anche questo callo di interesse? Ditemi insomma la vostra opinione nei commenti. Ora partiamo subito con l'inciampo, che possiamo definire un piccolo flash crash a tutti gli effetti, di bitcoin che abbiamo osservato negli ultimi due giorni, nelle ultime ore. Che è culminato, vedete, il picco di volumi proprio questa notte e questa mattina. Da cosa è stato causato e come potrebbe andare a finire? Quindi come potrebbe reagire bitcoin? Potrebbe andare a rimbalzare con la domanda che entra in gioco? Oppure ricomincia a ritracciare verso nuovi supporti barra nuovi minimi locali? La risposta, come sempre, è dipende. Ma la cosa importante è capire da che cosa dipende e quali, appunto, potrebbero essere i target successivi. Allora, innanzitutto andiamo a capire quali sono le cause di questo inciampo. Poi sapete bene che cause va messo tra virgolette, perché il mercato è una macchina molto complessa che si muove proprio in base a domanda e offerta. Ci sono alcuni catalyst, certo, però le cause esatte sono sempre, diciamo, visibili a posteriori, soprattutto. Tuttavia possiamo dire che ci sono alcune cose che indubbiamente hanno contribuito. Allora, da un punto di vista di fatti che stanno accadendo, abbiamo innanzitutto sia MT Gox, che proprio stamattina, tra l'altro, ha iniziato le transazioni di test proprio per la movimentazione dei suoi bitcoin, quindi sembra che sia vera la scadenza che dicevano di luglio per iniziare il pagamento delle, come dire, di tutti i procedimenti della liquidazione. Si tratta di tanti bitcoin, si tratta di miliardi di dollari in bitcoin e, come sapete, il timore è proprio che, visto che sono bitcoin di lunga data, che hanno subito un hold forzato da parte di chi li riceverà, proprio perché l'exchange è fallito, è fallito veramente tanti anni fa, quando bitcoin valeva molto poco, e chi aveva dei bitcoin depositati non li ha più visti e li rivedrà proprio nel momento in cui avverrà il ripagamento delle liquidazioni. Si troverà bitcoin che vale molto di più e quindi è verosimile che, almeno in parte, se non in buona parte, se non in toto per alcuni investitori forzati, passatemi questo termine, ci sarà un take profit che chiaramente impatterà generando selling pressure. Questo è un po' anticipato dalla speculazione del mercato che appunto sta reagendo proprio cercando di anticipare la cosa, sta apprezzando questa cosa. È una cosa più di paura, lasciatemelo dire, perché ovviamente non è che una liquidazione forzata o pseudo forzata di bitcoin va ad impattare sui suoi fondamentali. Ripeto, è banalmente paura barra speculazione che va a impattare soprattutto sul breve. Sicuramente non è un qualcosa che va a, come dire, corrodere ciò che ha il valore di lungo termine di bitcoin. Questa è la prima cosa. La seconda, molto simile alla prima, in realtà, perché è sempre una sorta di, tra virgolette, liquidazione forzata, è il governo tedesco, che sapete è da un po' che continua, giorno dopo giorno, a spostare bitcoin sugli exchange, generando di fatto selling pressure. A che punto si trova? All'incirca a un quinto. ha venduto un quinto dei bitcoin che deteneva. Abbiamo condiviso, anche in questo caso, su Telegram, mi pare, proprio ieri o l'altro ieri, quando c'era l'ultimo dato riguardo a ciò. Eccolo qua. Vedete, negli ultimi dieci giorni era partito con 3,32 miliardi di dollari di bitcoin a metà giugno, 49 mila e 800 bitcoin, circa, e si trovava il 2 di luglio, quindi qualche giorno fa, con 46 mila bitcoin, quindi una svendita pari a 400 milioni di dollari, circa, esatto, 4,20, eccola qui. E come vedete su Arkham, che è una di quelle piattaforme di chain analysis, viene seguito giorno dopo giorno lo scarico, proprio il movimento dei bitcoin detenuti dal governo tedesco, e questo movimento continua. Vedete, nell'ultima ora, in realtà questo post è di oggi delle 12, quindi sia abbastanza recente, altri 3 mila bitcoin sono stati movimentati verso gli exchange. E, ripeto, siamo a un quinto. Quindi anche qui c'è una componente di paura barra speculazione, che fa da Catalyst. Sicuramente non possiamo dire che le cause del crollo sono identificabili solo in questi due eventi, ma possiamo dire con certezza che hanno appunto catalizzato il movimento stesso. Il movimento stesso poi è generato verosimilmente anche da posizioni long aperte, che c'erano parecchie posizioni long aperte. Abbiamo visto crescere molto l'open interest, vedete, durante l'ultimo rialzo, e questo non me lo sto inventando, ma anche qui sto guardando i dati, proprio perché nelle ultime 24 ore abbiamo visto 293 milioni di dollari di liquidazioni, di nuovo liquidazioni forzate, di chi ha aperto dei long un po' troppo di gen, e parliamo di 260 long, chiaramente quasi la totalità delle liquidazioni sono long. Quindi capite, no, come la complessità del mercato fa sì che tutti questi pezzi del puzzle si vadano a incastrare tra loro, c'erano molte posizioni long aperte, qualcuno l'aveva proprio aperta magari su quest'ultimo approccio ai 61.300 dei giorni scorsi, le notizie magari hanno spaventato, hanno generato, innescato un po' di svendita, che a cascata ha fatto scattare le liquidazioni, e questo genera questi inciampini flash. Io metto tutto tra virgolette, tuttavia perché come vedete i volumi sono veramente bassi. Un'altra delle caratteristiche che fa sì che avvengano questi inciampi con estrema facilità è proprio il fatto che siamo in un periodo di, come abbiamo visto, sia disinteresse, ma anche di scarsa liquidità nel mercato. Bastano veramente volumi molto bassi per andare a impattare negativamente o positivamente sul prezzo. Cioè il prezzo si muove con più facilità, laddove c'è meno liquidità all'interno del mercato, perché a parità di acquisti o vendite a mercato si muove appunto il prezzo in misura maggiore. Questo è un po' il preambolo. Adesso andiamo a vedere invece proprio grafico alla mano, con estrema, diciamo, obiettività, quelli che potrebbero essere gli scenari in vista proprio post questo inciampo. Allora, innanzitutto partiamo dal time frame giornaliero. Il livello chiave da osservare è il nostro solito, vedete, 56.500 ed intorni. Perché qua si trova il test di liquidità, noi lo chiamiamo di solito così, dell'ultimo flash dump che ci fu a maggio, all'inizio di maggio. Non so se vi ricordate. Abbiamo appunto questo livello, 56.500, dobbiamo vedere se lo attacchiamo, come reagirà poi il mercato stesso, in particolare la domanda. Perché l'offerta chiaramente è responsabile dell'attacco, con le concause che abbiamo visto fino a poco fa, dobbiamo capire appunto la reazione. Ovvero, come al solito, andremo a triggerare liquidità. Come andrà a finire? La candela chiuderà poi confermando di fatto la perdita del livello chiave, oppure avverrà un assorbimento e la domanda reagirà, facendo quindi presagire con maggior probabilità la possibilità di recuperare i livelli che abbiamo perso in questi giorni. Al momento siamo ancora nella fase dominata dall'offerta. Dobbiamo aspettare, vedere la reazione della domanda, quindi vedere ad esempio la chiusura giornaliera di oggi, vedere se arriveremo ad attaccare la zona, appunto lo sweep, quindi di fatto sotto i 56.500 oppure no, perché se non dovesse avvenire quello sweep, di fatto manca ancora quella condizione per poter valutare obiettivamente il movimento, a meno che non ci sia ovviamente un rebound immediato, in tal caso la domanda sarebbe palese, ma se ci dovessimo andare ad arrestare in questa zona senza andare a testare la liquidità qua sotto, il movimento sarebbe ancora parziale. Quindi, ripeto, ci vuole un po' di pazienza, bisogna osservare con obiettività ciò che avviene e capire appunto la domanda, se ancora presente, se ancora vigorosa, come è stata, vedete, nell'ultimo test, dove ha reagito praticamente pochi giorni dopo, recuperando poi dopo un retest, e un retest anche bullish dal basso, il livello chiave, oppure se stavolta ci sarà una reazione molto minore. Possiamo appunto paragonare, no, e dire la reazione che vedremo è maggiore o minore di questa e quello ci farà capire se l'intensità della domanda è ancora presente oppure no. Nello specifico, per poter definire la domanda presente e reattiva, possiamo identificare, allora, innanzitutto ve l'ho detto, in caso di test della liquidità, una reazione immediata che ci riporta qua sopra, e magari con una shadow bella presente, con una candela verde immediatamente dopo, e quello è il primo segnale, chiaramente non sufficiente, però è meglio ovviamente che vedere una candela rossa che va a testare la liquidità e poi chiude qua sotto. Questo sarebbe l'esito possibile, peggiore possibile per il test della liquidità in questione. A seguire invece il segnale dominante per il ritorno della domanda, sarebbe un recupero dei 64.000, quindi ritornare qua sopra e assorbire quello che è il punto di origine di questo inciampo. Quindi andare a ritestare innanzitutto questo livello e poi possibilmente chiudervi sopra. Ecco che lì abbiamo una presenza assolutamente obiettiva e palese della domanda in reazione all'attacco in questione. Quindi questi sono gli scenari bear, quindi test della liquidità fallito, chiusura qua sotto, e in tal caso i target rimangono i soliti 54.500 e 51-52.000 come target immediati di breve, sui quali andremo a vedere appunto se ci sarà reazione e che reazione ci sarà. Finora, come vedete, è un ritracciamento lento, se dovesse continuare come ha fatto finora. Quindi non è che c'è l'inciampo brutale così. Quindi se continua così, quelli sono i livelli. Chiaramente potrebbe anche cambiare la situazione vedere un inciampo brutale. Quello lo staremo a vedere, però è più probabile ovviamente vedere una situazione di questo tipo. Quindi attenzione sempre a questi livelli chiave che sono i prossimi da andare ad esaminare. Mentre lato bullish, quindi nel caso di reazione positiva, ve l'ho detto, il trigger è 64.000 e se li recuperiamo, chiaramente poi gli altri livelli da osservare sono 67.200, 69.600 e poi i massimi locali per andare ad attaccare invece il range eye e provare a rompere una volta ogni tanto dall'altra parte. Questo è ciò che riguarda il breve. Ancora più importante è il medio termine, quindi il settimanale. Il settimanale è il time frame a mio parere più rilevante in assoluto. Questa settimana dobbiamo cercare di nuovo di chiuderla sopra i 61.300 perché altrimenti, come vedete, abbiamo un breakdown con tutti i crismi. Se non facciamo il test della liquidità, quindi andare a sweepare i 56.600 è parziale come cosa perché, ripeto, è importante secondo me andare a testare la liquidità sotto i minimi e vedere se la domanda è lì che aspetta di reagire perché spesso si annida lì. Tuttavia una chiusura come questa sarebbe obiettivamente una chiusura molto negativa. Avremmo una candela di offerta abbastanza, come dire, marcata, bella piena che va a mangiarsi anche tutta la shadow di domanda della settimana scorsa e quindi ovviamente andremmo verso lo scenario di ritracciamento come dicevamo prima non in ciampo brutale proprio perché come vedete è un ritracciamento di questo genere no, proprio appunto da lì la parola ritracciamento e non crash e quindi fin tanto che permane questo scenario ripeto abbiamo questa sorta di canale ribassista se confermato da una chiusura qua sotto e come abbiamo visto i target da osservare su time frame settimanali in realtà il primo target è proprio questo dei 51-52.000 perché gli altri sono target più di breve tuttavia quei tre livelli lì sono sempre i livelli in gioco da guardare per bene da vicino inutile che vi dica che in queste situazioni di incertezza il mercato altcoin assume livelli di rischio molto più alti non ne parliamo quasi mai del mercato altcoin ultimamente per una sola e semplice ragione che è proprio questa non ha senso assumersi rischi più alti in un momento già di incertezza per bitcoin dove dobbiamo capire se vuole inizializzare proprio una fase di ritracciamento prolungata oppure rimanere in fase laterale e di più probabile accumulazione motivo per cui i grafici delle altcoin rimangono comunque deboli basti vedere il nostro solito grafico riassuntivo di tutta la forza relativa altcoin su bitcoin vedete rimane in questa fase laterale e in particolare l'ultima gamba di questa fase laterale nella quale ci troviamo è questa gamba ribassista quindi veramente maneggiare con estrema cura anche per quanto riguarda bitcoin io ripeto non bisogna avere fretta non bisogna correre il mercato punisce chi ha fretta punisce chi agisce impulsivamente quindi questo vuol dire sia evitare il panico e dire vendo tutto me ne vado oh mio dio aiuto crolla di sicuro perché ripeto gli scenari sono ancora sul tavolo le probabilità sono ancora abbastanza distribuite modo è sbagliato urlare saldi buy the dip eccetera eccetera ogni qual volta abbiamo un ritracciamento un inciampo un calo di prezzo proprio perché qualora dovesse trasformarsi poi nell'innesco di un movimento più di medio lungo termine rischiamo di rimanere un po' sprovveduti e di nuovo di andare a valutare un qualcosa come un semplice dip quando in realtà potrebbe ripeto se si verificano certe condizioni innescare un movimento più duraturo quindi di nuovo qual è la soluzione banalmente avere una strategia di lungo termine che funzioni sempre sia nel caso in cui il mercato dovesse pompare all'improvviso sia dampare all'improvviso proprio perché va a filtrare i movimenti di breve che è ciò che conta quindi mi raccomando se provate panico o non sapete bene come muovervi come comportarvi significa che probabilmente dovete rivedere radicalmente il vostro approccio vi consiglio di farlo proprio per avere più successo nel tempo in futuro abbiamo un sacco di video sul canale che vi possono dare una mano e dare qualche spunto in questo termine nonché i nostri corsi gratuiti detto questo notizie rapide lampo cose da sapere allora in primis è aumentato il cap di restaking di Symbiotic che è una dap competitor di Gain Layer di cui abbiamo parlato svariate volte soprattutto a tema airdrop proprio perché è una piattaforma di restaking che vi permette di mettere in restaking varie coin tra l'altro tra cui ST e TH di Lido ma non solo c'è anche quella di Rocket Pool ad esempio quella di Coinbase eccetera eccetera e vi fa farmare i suoi punti come abbiamo visto tramite Lido si può anche utilizzare il liquid restaking che è Mellow che si appoggia proprio Symbiotic e ci sono delle strategie di farm un po' più complesse proprio per massimizzare l'APR e i punti con ovviamente rischi coinvolti adesso non stiamo a fare il pippone sul restaking ne abbiamo parlato varie volte ci tenevo a dirvi questa cosa proprio perché Symbiotic era cappato era arrivato al limite fino a poco fa adesso questi limiti sono stati alzati quindi se vi interessa e verranno alzati poi un po' alla volta periodicamente proprio per evitare di creare movimenti troppo importanti in ingresso se vi interessa il fare restaking su Symbiotic per andare a esporvi alle possibilità di airdrop e farmare i punti ecco sappiate che ora è possibile ultima cosa vi avevo parlato l'ultima volta di Mega Hat nella live di due giorni fa che è la crypto in cui il progetto in cui ha investito Vitalik Buterin stesso proprio perché l'obiettivo come abbiamo detto è creare un layer 2 super scalabile a finalità istantanea che fondamentalmente ha zero frizione con gli utenti cioè l'utente non si accorge neanche che sta utilizzando una chain perché di fatto questo avviene ad esempio abbiamo visto l'ultima volta con il discorso del gaming se mentre tu fai cose devi ad esempio confermare una transazione ti si ferma tutto e aspettare la conferma eccetera eccetera ecco qua l'obiettivo è proprio superare questa frizione e adesso al di là di tutto il tema tecnico dentro ci sono dei personaggi abbastanza noti come alcuni di Consensys il founder di Genlayer il tra l'altro Mert di Helius Labs che è un personaggio di spicco di Solana e lo stesso Vitalik Buterin ha investito appunto in questo progetto la cosa interessante che non vi avevo detto l'ultima volta con certezza sono le date come vedete la testnet andrà live in autunno e la mainnet è prevista all'incirca a fine anno sul token hanno detto dobbiamo ancora decidere dobbiamo ancora vedere quindi teniamo d'occhio questa cosa perché comunque è uno dei layer 2 nel caso più interessanti e in hype in assoluto proprio per la partecipazione di tutti i personaggi di spicco dell'ambiente Ethereum e non solo tra l'altro questo lo rende ancora più interessante occhi aperti mi raccomando bene amici questo termina il nostro flash update di oggi come sempre super concentrato spero l'abbiate apprezzato nel caso lasciate un bel like e mi raccomando rimanete sempre sul pezzo e non cadete mai vittima delle emozioni che siano fomo che sia paura panico proprio perché bisogna sempre e comunque essere obiettivi e razionali se si vuole sopravvivere in questo folle mercato vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo flash update flash update